Alla terza è inaugurato il Parco Urbano Giovanni Paolo II, realizzato con un finanziamento regionale destinato a riqualificare quest'area in cui molti campioni hanno giocato. È stato realizzato nel luogo in cui sorgeva il campo sportivo di Via Roma ed è stato appunto intitolato a Papa Giovanni Paolo II come l'omonima via che lo costeggia. Nell'occasione nel parco si è tenuto un consiglio comunale monotematico dedicato al conferimento della cittadinanza onoraria al professor Carmine Arena, allenatore della polisportiva di La Terza negli anni 60-70. Ora la periferia sarà un punto di riferimento molto forte per la comunità cittadina, detto soddisfatto il primo cittadino l'opane. Il parco fungerà da luogo di aggregazione sociale nel quale si potranno svolgere manifestazioni non solo sportive ma anche di carattere ludico, ricreativo e culturale, garantendo agli abitanti delle periferie e l'opportunità di essere vicine ad un luogo promotore di socialità e di cultura. Vediamo. Qui sorgeva il vecchio campo sportivo ormai dismesso che ora sarà il centro ancora vitale della nostra città, della nostra comunità grazie appunto a questa attrezzatura che oggi consegniamo alla città dopo un lungo iter ma che siamo contenti di poter donare ai nostri concittadini soprattutto ai giovanissimi, alle nuove generazioni che già da oggi con la presenza delle scolaresche saranno qui presenti. Un progetto molto ambizioso che conta di continuare con interventi successivi. Alle spalle di questo parco nascerà il futuro parazzetto dello sport e ancora ci saranno ulteriori strutture da completare e da insediare in questo pezzo di città che si appresta a diventare uno dei più belli. La terza per me ha la mentalità proprio giusta per essere sempre all'avanguardia. Io non ho mai considerato la terza secondaria a nessuna, mai. Ripeto, ho avuto la fortuna di fare il commissario tecnico della Puglia, ho avuto la fortuna di allenare in Matera, altamore, però per me quello che ho ricevuto alla terza, dai ragazzi della terza e da tutta la città della terza è unica, non esiste al mondo. Grazie.